I biker orobici si sono dati appuntamento a Via Danica per Pasquetta, dove era in programma la quarta prova di Orobie Cup. Vittoria del Vicentino Nicola Spettina della Forestale, uno dei giovani su cui punta il Movimento Azzurro e il CT Palumber. Il corridore di Arzignano si è lasciato alle spalle Andrea Rigettini del Tinto Desco ed il duo della Ovia Abion Axevo, formato da Luca Ronchi e Giacomo Antonello. Bergamaschi un po' penalizzati dalle forature e alla fine il migliore risultato è Riccardo Milesi della Valcavallina, settimo assoluto. Subito dietro Andrea Giupponi della VR Compositi che per soli 8 secondi ha difeso la maglia rosa di leader della classifica a tempi. Note di merito ancora per Walter Milesi, Federico Motteran, Luca Signori ed Enrico Vizinoni, tutti i primi nella rispettiva categoria. Tra le donne vittoria di Iana Belomonina, Succhiara Mandelli e Deborah Solina. Nelle categorie giovanili invece spiccano le tre vittorie della scuola MTB San Paolo d'Argon, per merito dell'allievo Kevin Lady e degli esordienti Giara Carminati e Nikita Oleksenko. Tra le allieve vittoria di Nicole Venturini della Hard Rock Omerida, mentre l'orobico Cristian Boffelli della TXAT Bianchi si è imposto tra gli juniores. A proposito, la formazione di Trevivio lunedì ha vinto anche il titolo Lombardo Ciclocross con l'esordiente Katia Moro.